un piccolo e veloce unboxing perché devo andare comunque sono felicissimo di questo pacco dovevano arrivarmi due ordini separati però mi sono arrivato tutto insieme e è arrivato tutto questo dopo allora questo qua è importantissimo per me questo qua sono per ok questo è coloro questo quello grigio allora questo è importantissimo perché se me lo fa aprire magari perché diciamo che lo cercavo da una vita solamente che non lo trovavo se non diciamo di marche scalenti di cui non mi fidavo allora ho detto vabbè aspettiamo e fino a quando non lo troviamo diciamo buono non lo prendiamo il cavo dell'apple usb connettività oro no connettività normale corto perché io ho il power bank e quindi diciamo avevo preso prima di tutto il cavo quello da un metro ottanta però era scomodo dopo un po allora ho detto a posto di intracciare fili così tanto che visto che tengo sempre il power bank il cellulare vicino quando stanno in ricarica prendo questo e sono a posto a postissimo insomma finalmente ho questo e ora arriva il pezzo forte quello che stavo aspettando non è un po' allora essendo che su vari tipo negozi ah no è qua l'apertura vendono tipo quando ti danno da bere ti danno anche una cannuccia diciamo in plastica non è molto corretto diciamo non è immaginavo più grande però va bene così non è molto corretto questo è quello nero prendiamo quello blu quello azzurro non è molto corretto perché diciamo io sono un persona che sta diventando pian piano plastic free pian piano lo sono già diventato un po' si è incastrata la linguetta di sinistra no vabbè ok perfetto senza romperlo e questa cosa io l'avevo vista in un video ho detto wow devo averla e guardate è una cosa fighissima tu tiri fuori ed è una cannuccia telescopica utilizzabile non si chiama telescopica cioè in teoria sarebbe telescopica però non la chiamano così è una figata assurda riga è fatta con cosa che era paglia al corpo e metallo poi il coso è 100% food grade abs non so cosa sia medical grade forse è silicone no è impossibile mi aveva detto che era paglia sul sito però vabbè e niente è appunto una cannuccia non so se si potete vedere attraverso comunque ok è una cannuccia e wow ho letto molte recensioni alla fine ho optato per queste perché erano le uniche cannucce che non avevano tanti problemi diciamo perché le altre invece erano segnalate un botto perché dicevano no queste si rompono no questo quest'altro no bla 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 allora ho detto vabbè vado su queste me ne danno due ma almeno sono le più sicure diciamo poi qua naturalmente abbiamo anche il coso per pulire in teoria dovrebbe esserci anche il cosino però vabbè qua questo qua lo mettete dentro la cannuccia e pulite appunto tutto quanto comunque se volete se volete questi qua piccoli prodotti ho fatto questo unboxing che non è molto da me nel senso che sapete io preferisco fare le cose nei regali del mese comunque ho fatto questo unboxing veloce perché appunto volevo farvi vedere questo e anche per diciamo sensibilizzare sulla cosa se volete appunto queste cannucce qua strafighe per andare in giro con le vostre amiche fare tipo e bere la vostra bevanda senza tanti problemi vi consiglio appunto queste cannucce qua fantastiche come trovate il link in descrizione comunque è buona oppure prendete il nome da qua dal video c'è scritto qui è buona prima di tutto però allora essendo che io faccio video su regali del mese perché preferisco dopo un po faccio uscire la recensione e tutto quanto quei video sono molto programmati perché perché voglio diciamo le faccio con largo anticipo perché alla fine io i prodotti li devo testare tutti quanti ok e giusto oggi ho finito di testare una stampante tutto il resto e niente dovrete guardarvi il video recensione niente comunque di questo non vi farò il video recensione perché sono prodotti stra semplici sono stra certo se diciamo creano qualche problema comunque se mi stupiscono che vanno carica veloce ve lo dirò in qualche video comunque ci farò un video promozionale nella nuova serie e comunque niente e basta ora però devo capire come si mette via sto coso ok l'ho messo io è a posto ok fantastico poi si mette questo aspettate è buono quasi con quello del video ciao aspettate è buono